bella regà bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi vi voglio portare questo outfit ragazzi potete farlo tutti per fare i jokers rossi che sono i pantaloni lascio il link in descrizione del video che ho portato ieri o l'altro ieri ora non ricordo ragazzi quindi partiamo con l'outfit allora ragazzi dovremo andare dalla parte alta e andare a cercare maglie dolce vita rosso a questo punto regà io mi dovrò togliere un attimo dalla testa tutti gli accessori le cose in modo da farvi vedere come farlo se volete farlo uguale a me intanto ragazzi vi invito a lasciare un like un pollicione a scrivervi a twitch non vi costa nulla ragazzi per fare crescere questo canale e quell'altro quindi a questo punto andiamo nei giubbotti ragazzi e andiamo a cercarci il giubbotto pesca io metto questo ragazzi controllate comunque sia sempre i numeri anche nella maglia perché potrebbe essere non uguale delle volte cambiano a seconda di quanti vestiti sblocchiamo eccetera a questo punto una volta messo il giubbotto ragazzi e andiamo a metterci i guantini di cotone bianchi che ci stanno molto bene e andiamo a salvarci l'outfit o nel primo slot o nell'ultimo slot ragazzi ci servono per forza uno di questi due perché dopo entraremo nell'attività e ci serve per forza questa cosa qui quindi a questo punto una volta salvato regà non ci resterà altro che ri accedere al bancone andarci a cercare completi tute e cerchiamo il completo dello scienziato pazzo una volta che l'abbiamo trovato ragazzi e lo indossiamo è uguale che colore prendete quindi è indifferente ragazzi dovremo andare al cannocchiale una volta arrivati in spiaggia dal cannocchiale corriamo verso cannocchiale schiacciamo freccia destra teniamo premuto il menu interazione o touchpad se giocate da play e a quel punto andate su stile e mettete il completo che stiamo facendo che io ho chiamato test e come potete vedere si sarà messa solo la maschera della tuta dello scienziato pazzo a questo punto ragazzi dovremo andare a salvarci l'outfit e io vado qua dal negozio di maschere potete andare anche già direttamente da munition così quando tra poco state nel moltità non sarete già lì quindi salvate l'outfit ragazzi e una volta che vi siete salvati l'outfit fate start online avvia attività create da rockstar missioni un lavoro da titano mi scuso per la mia voce ragazzi oggi in questi video perché sono raffreddato sono veramente consato malissimo a questo punto avviate il lavoro da titano ragazzi normalmente e una volta che siete all'interno andate da un qualsiasi ammunition l'importante è che quando spawnate ragazzi non avete il giubbotto antiproiettile addosso a questo punto una volta da ammunition non andate a sinistra andate qua nella parte di destra salvate gli outfit ragazzi salvate l'outfit nel primo o nell'ultimo slot vi consiglio di usare sempre o uno o l'altro e sovrascrivere come faccio io a questo punto semplicemente apriamo il telefono axa o se giocate da ps ragazzi x quadrato x e quittate l'attività una volta che spawnerete il lobby dovete scegliere l'outfit da cui prendere il cinturone ragazzi oppure le spalline potete averlo anche nel vostro stile negli stili già salvati oppure potete prenderlo dal negozio dal negozio ci sono quelli tipo di caio ragazzi la guardia che portano il cinturone quello easy con le chiavi meglio di niente ci accontentiamo io userò il quello del paramedico perché l'ho portato ragazzi da one quando feci l'account quindi a sto punto andiamo ad avviare ragazzi l'attività basso profilo la fare g è uguale comunque sia e vi lascio in descrizione il link per xbox e ps ragazzi una volta che siete all'interno dell'attività mi raccomando fondamentale dovete mettere completi salvati ragazzi perché se non mettete completi salvati il glitch non funziona perché entrerete nell'attività con i completi del gioco quindi una volta che è entrato il vostro amico che ragazzi vi ricordo che questa attività per forza in due va fatta e siete in questa schermata se avete messo l'outfit nel primo slot fate una volta a destra se avete messo l'outfit nell'ultimo slot fate una volta a sinistra a questo punto selezionate l'outfit che stavamo facendo una volta selezionato ragazzi dite al vostro amico anche di fare pronto dopodiché quando siamo nell'attività semplicemente la quittiamo dal telefono facendo axa o x quadrato x se giocate la ps ragazzi ogni volta mi impappino comunque una volta che siamo spawnati in lobby ci rechiamo da un qualsiasi veicolo e dobbiamo diventare membri o di mc o della sicuro server del ceo ragazzi dal menu interazione quindi io vi consiglio di andare in una sessione inviti perché spesso e volentieri sono sempre piene rockstar c'ha limiti di otto nelle lobby e quindi non si riesce a fare salite poi su il veicolo ragazzi una volta che siete membri della sicuro server o del ceo andate su stile organizzazione switchate una volta a destra e una volta a sinistra e poi scendete dal veicolo e sbadabam avremmo passato o il cinturone o le spalline a questo punto non ci resta che andare a salvare l'outfit ragazzi a questo punto regà una volta fatto ciò andiamo a metterci qualcosa in testa quindi se volete usate i miei stessi componenti ragazzi se no se volete potete usarne degli altri a me piace molto lo stile di come viene mi ricorda non so per quale motivo freddy kruger con quella faccia così e l'outfit rosso non c'entra un cazzo ma ragazzi purtroppo ho questo ricordo quindi a questo punto come al solito corriamo dal canocchiale schiacciamo freccia a destra ragazzi quando schiacciamo freccia a destra teniamo premuto il venuto in azione e poi ci siamo buggati andremo a metterci la maschera io ragazzi userò questa adesso vi faccio vedere vado su stile invece di mettere l'outfit andrò a indossare maschera quindi accessori vado su maschere e vi metto questa qua la aderente teschio bianca però siccome savix è esaurito ragazzi ha sbagliato il passaggio bisognava fare la cosa contraria quindi ora mi allontano e sparisce la maschera quindi mettiamo la maschera aderente bianca e poi ci andiamo a buggare a questo punto vado a indossare il cappellino di tela rosso ragazzi e ci sta veramente troppo bene adesso andrò a fare la stessa cosa e ci metterò gli occhiali ragazzi io vi consiglio questi che sto usando io che a parer mio veramente si sposano da dio ci stanno veramente bene vi lascio a voi poi scegliere se volete farlo diverso se volete solo prendere spunto ragazzi io non obbligo nessuno faccio un completo per me mi piace e ve lo porto quindi raga a questo punto lasciate un like se vi è piaciuto il video commentate ragazzi date un pugno sulla tastiera fatemi vedere che esistete bella raga alla prossima asbatabam